I film e le serie tv ispirati a videogiochi spesso fanno una burta fine, risultano essere dei prodotti spesso scadenti o comunque che finiscono poi per essere dimenticati. Netflix sfida questa regola e propone una trasposizione cinematografica di un videogioco appunto con la sua serie The Witcher. In realtà la serie si basa sui libri che hanno ispirato i tre capitoli del videogioco, si basa principalmente su quelli ma è innegabile che l'aspetto visivo e scenografico è preso dal videogioco. Io stesso ho giocato The Witcher 3 ed è uno dei miei videogames preferiti che mi è rimasto veramente tanto nel cuore quindi non vedevo l'ora di vedere questa serie. Ve ne voglio parlare oggi in questa recensione ovviamente senza spoiler, ditemi voi cosa ne pensate della serie, se l'avete vista, se vi è piaciuta, se vi ha convinto, se siete fan del videogioco oppure dei libri e se siete rimasti soddisfatti dalla trasposizione del materiale originale. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Di cosa racconta questa serie per chi non lo sapesse? È ambientata in questo mondo fantasy un po' particolare dove vengono raccontate le storie e le avventure di Geralt e Rivia, un Witcher, una specie di stregone cacciatore di mostri insomma. La serie prende alcuni elementi dal libro o se li inventa, non ve lo so dire perché non ho letto i libri appunto, e altri elementi invece dal videogioco. Ed è palese, sono quelli che riguardano l'aspetto visivo e scenografico, appunto le scenografie, la costruzione del mondo fantasy, le foreste, i castelli, le grotte, tutti i vari mostri che compaiono nella serie, tutti i vari cavalieri, le loro armature, i costumi. Quindi anche lo stesso aspetto del protagonista è preso a piene mani dal videogioco. E questo aspetto della serie l'ho apprezzato perché è un'ottima trasposizione visiva del videogioco adattata ovviamente alla serie tv. Sono rimasto soddisfatto da ammiratore del videogioco e ovviamente da appassionato di serie. L'unica cosa è che la serie conta otto episodi e i primi tre sinceramente ho avuto difficoltà nel farmeli piacere, nel digerirli, perché hanno alcuni difetti che non mi sono proprio andati giù. Sono frettolosi e questo è innegabile, ci sono tanti spiegoni, tanti dialoghi dove ti vengono proposte molte informazioni e hai difficoltà a processarle, tanti nomi che non ti entrano in testa e quindi non capisci quello che stai vedendo. L'evoluzione dei personaggi all'inizio è troppo repentina e l'evoluzione dei rapporti tra i personaggi è veramente troppo frenetica, non rispetta i tempi naturali che dovrebbero avere. I primi tre episodi danno anche per scontate molte cose, non ti introducono il mondo fantasy che stai vedendo, che è un po' particolare. Non te lo introducono in maniera lenta e comprensibile, ma te lo sbattono in faccia così, sei te che devi capirlo, dandoti molte spiegazioni che la serie non dà. Ma questi difetti che troviamo all'interno dei primi tre episodi, piano piano, con il quarto episodio e soprattutto il quinto che presenta un colpo di scena incredibile, questi difetti spariscono totalmente e anzi ti rendi conto che facevano parte della costruzione stessa della serie. È una cosa che accade raramente, ma è una serie che sembra partire male, ma in realtà finisce molto molto bene. Parte male perché in realtà ti trovi davanti a un prodotto che ancora non hai compreso, non hai compreso le sue regole e all'inizio rimani un po' confuso, ma una volta arrivato agli episodi principali dove la trama inizia a macinare, ti rendi conto che quello che hai visto prima serviva per introdurti il mondo fantasy appunto di The Witcher e tutte le storie che andrai poi a vedere. Un esempio di questo, per farvi capire meglio, riguarda i dialoghi. All'inizio i dialoghi per un mondo fantasy sembrano essere veramente moderni e quindi rimani un attimo spiazzato, dici cavolo, ma comunque questi personaggi sono cavalieri, principi, principesse. Dovrebbero parlare in una certa maniera, un po' antica, invece parlano in maniera molto moderna, diretta. Questa cosa che all'inizio dà fastidio, poi diventa parte integrante della serie, perché il mondo fantasy di The Witcher, esattamente com'era nel videogioco, è così. È un mondo antico, ma allo stesso tempo moderno per certi aspetti. Geralt è un personaggio moderno, tutti gli altri comprimari sono personaggi con una mentalità, un modo di parlare, un modo di vedere le cose che sembra abbastanza attuale. Ci vuole assolutamente tempo per introdurre il mondo di The Witcher e la serie se lo prende tutto. Gioca veramente con lo spettatore, gioca con la narrazione, che non è lineare, non è una narrazione semplice. Prende in giro lo spettatore e il divertimento è proprio quello. Pensi di star vedendo qualcosa di semplice, lineare e all'inizio anche banale, ma poi ti rendi conto che è molto complesso, è pensato, è ragionato, è intelligente. E per questo ti appassioni, ti appassioni tantissimo. Ci sono molti colpi di scena, molti momenti che ti spiazzano. È un tipo di narrazione che ti fa rimanere col fiato sospeso, perché ti propone dei misteri, ti propone delle domande sulle quali tu ragioni e pensi a come si potrebbero risolvere e nel momento in cui ti danno la soluzione rimani veramente a bocca aperta. Mi è piaciuto tantissimo il personaggio di Geralt, ovviamente, che non è comunque il personaggio principale. Sì, è sicuramente il protagonista, ma anche i comprimari che all'inizio mi stavano antipatici, fatemelo dire, diventano invece degli ottimi personaggi, sono evoluti tantissimo durante la serie, sono ben caratterizzati in una maniera anche abbastanza profonda e ti affezionerai a tutti i comprimari. Comunque, tornando a Geralt, il protagonista è sicuramente ben caratterizzato, esattamente com'era nel videogioco lo troviamo nella serie. È un personaggio sicuramente più uso, burbero, anche un po' sarcastico in certi momenti, che si esprime solo a Mugoli, che parla solo col suo cavallo Rutilia, grande Rutilia, non poteva assolutamente non esserci. E si esprime in questa maniera così, un po' scura, è un personaggio tormentato, perché sembra non avere sentimenti, ma in realtà li ha. E la serie va a sviscerare proprio questo elemento. È un Witcher, è un semplice cacciatore di mostri, ma non è solo questo. E propone un'evoluzione interessante nel personaggio. Bravissimo Henry Cavill, che è un appassionato del videogioco, e di tutta la materia di The Witcher, lo dimostra e mette anima e passione nel interpretare questo personaggio, che anche se visivamente non è esattamente come nel videogioco, risulta essere assolutamente in parte e fedele. Il Superman della DC dimostra di essere un buon attore per quanto riguarda questi prodotti di intrattenimento, perché amando la materia che sta interpretando, riesce a dargli vita nella maniera più giusta possibile. Esattamente come ha fatto con Superman, che è scritto male come personaggio, ma interpretato benissimo da lui. In questo The Witcher è perfettamente Geralt di Rivia, e per fortuna il personaggio è scritto anche bene, così la sua performance può brillare. Non stiamo parlando comunque di un prodotto che rimarrà probabilmente nella storia, ma per quanto riguarda le serie fantasy e di intrattenimento, questo The Witcher si pone assolutamente nei primi posti. Magari non raggiunge il livello di Game of Thrones, ma vi posso assicurare che è una serie validissima. I suoi otto episodi sono interessantissimi, soprattutto gli ultimi. Tantissimi colpi di scena, tantissima voglia di vedere l'episodio successivo, e soprattutto di vedere la prossima serie, perché il finale è spiazzante e non vedi l'ora di capire come continuerà. Ti dimostra anche il finale che è una serie molto introduttiva, che si prende i suoi tempi proprio perché introduce con calma il mondo fantasy e questi primi otto episodi sono solo la punta dell'iceberg. In più la trama, esattamente come nel videogioco, propone piccole avventure di Geralt che sembrano non portare effettivamente avanti la trama principale, la trama orizzontale, ma in realtà lo fanno perché evolvono i personaggi, perché evolvono i rapporti tra di loro, fanno passare gli anni, fanno passare mesi tra un episodio e l'altro, proprio per renderti familiare il mondo che stai vedendo. E questo tipo di narrazione con episodi molto verticali, ma anche orizzontali, sinceramente l'ho apprezzato. C'è qualche difetto, come vedete i primi tre episodi sono forse un po' difficili da digerire, potevano fare due episodi in più e spiegare qualche cosina con più calma, fare la serie anche un po' più lunga per poter godere ancora di più di questo fantastico mondo che viene proposto. Ma sono piccoli difetti che sinceramente mi sono dimenticato, che non ricordo se penso in generale alla serie, se penso a questo The Witcher ho una buona sensazione. Vorrei rivederla e non vedo l'ora di vedere come continuerà. Anche il lato tecnico, regia, fotografia, effetti visivi, speciali, montaggio, tutto secondo me è realizzato veramente bene e comunque con accuratezza. È un prodotto Netflix che sicuramente mi ha soddisfatto, e ultimamente non sempre Netflix riesce a proporre secondo me delle buone serie, invece con questo The Witcher ce l'ha fatta, con un genere particolare, il fantasy, che viene trattato troppo poco nelle serie, invece Netflix ha dimostrato di saperlo fare, sganciando una bomba veramente importante, che fa probabilmente concorrenza a tutto il discorso della streaming war, a Disney+, che arriverà fra poco in Italia, ma che è già uscito, che ha sfornato le sue bombe con The Mandalorian. Mandalorian, spero e penso che appunto questo The Witcher sarà sicuramente una delle serie di punta di Netflix, perché se lo merita. Da amante del videogioco posso ritenermi veramente soddisfatto e vi dico di darle tempo, perché è una serie che all'inizio a me proprio non mi stava piacendo, poi invece mi ha fatto innamorare. Una delle migliori serie del 2019, anche se non finirà nel video delle migliori serie del 2019, che è già uscito o dovrà uscire, non lo so, perché l'ho già registrato, ma sicuramente a mani basse potrebbe rientrare in quella lista. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, oppure se invece magari non l'avete apprezzato e per voi dovrebbe stare nelle serie peggiori del 2019, oppure se siete più nella via di mezzo. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi invito se vi va a guardare i vari link dei social in descrizione per seguirmi anche lì, mi trovate su Facebook, su Telegram, ma soprattutto su Instagram, e se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non vi perdete nessun altro appuntamento. Ci vediamo in un prossimo video e vi saluto. Ciao ragazzi!